Be My Eyes, insomma, siate i miei occhi, è un nuovo modo, sintetizziamolo il tuo business, che poi è una start-up, tra l'altro operativa da ottobre, quindi da pochissimo, è un nuovo modo di fare ricerca, di fare controllo del territorio per i brand, insomma come la definiresti il più sintetico possibile? Sono, tecnicamente, si chiamano field audits in crowdsourcing, noi otteniamo dati e immagini dal territorio con questa modalità innovativa perché commissioniamo la richiesta di queste immagini a privati cittadini che hanno una nostra app installata sul loro iPhone, tramite la quale vedono che ci sono nei loro dintorni dei lavori da svolgere e possono recarsi sul luogo, seguire le istruzioni, compilare un questionario, e appunto inviare tutti questi dati. In questo modo i committenti, che sono i nostri clienti, sono normalmente grandi brand del retail o dei prodotti confezionati, largo consumo, possono ottenere dati e immagini dal territorio in maniera molto rapida e a costi molto più bassi di quanto non sia possibile fare oggi e così facendo riusciamo a risolvere da un lato il problema di ottenere queste informazioni per le aziende e dall'altro diamo l'opportunità ai ragazzi di guadagnare per il semplice fatto di trovarsi nel luogo giusto, al momento giusto. Quindi sono fondamentalmente dei micro lavori che vengono compensati con dei micro pagamenti, per cui sono lavori che pagano, dipende un po' dai casi, ma nel senso diciamo dai 5 ai 10, 15 euro. Esatto, perché cadiamo immediatamente il tutto nel dato, che poi ci dà un po' la sensazione di cosa può essere. Quanto si guadagna? Cioè quanto i ragazzi possono guadagnare e quanto invece un cliente spende per avere una visione di quello che gli interessa? Faccio qualche caso concreto. Allora la possibilità di guadagnare per i ragazzi dipende un po' da dove vivono, nel senso che nelle grandi città è più facile che ci siano più lavori da svolgere. Se uno abita in un piccolo paese di montagna è facile che gli toccherà un po' aspettare prima che ci sia qualche cosa da fare. Per cui per chi abita in centri abitati un po' più grandi e prende questa cosa, nel senso, seriamente, c'è la possibilità di guadagnare qualche, diciamo anche un centinaio di euro al mese. Per cui nel senso non è una cosa con cui pagare l'affitto, sono micro lavori. C'è una signora di 60 anni che in realtà si è fatta tutta la parte est di Milano in bicicletta, si è fatta 400-500 euro nel giro di un mese, ma è un caso un po' particolare. Sono comunque lavori che appunto pagano importi diversi a seconda un po' della complessità di ciò che va svolto e un po' anche dato dall'urgenza che c'è di avere questo dato, per cui se un lavoro non è urgente viene pagato poco perché prima o poi qualcuno lo farà. Se invece è urgente noi offriamo di più funziona proprio come un mercato, per cui possono essere anche offerti 20 euro per una singola rilevazione, proprio perché abbiamo grande urgenza di ottenere quel dato. Per l'azienda anche qui il costo dipende appunto dalla tipologia di rilevazione, per cui si può andare da un minimo di 7-8 euro per visita per quello che sono rilevazioni abbastanza semplici, non si sono questionari complessi, per i quali non vi è una grandissima urgenza, per cui possiamo lasciare aperta questa campagna di rilevazione un paio di settimane, ha costi molto più alti se c'è l'esigenza di ottenere i dati molto velocemente e magari in condizioni complesse, ad esempio l'abbiamo fatto per delle stazioni di servizio in autostrada, che sono di per sé un tipo di visita complessa, per cui per incentivare qualcuno, cominciare qualcuno ad andare in autostrada apposta a fare questa cosa bisogna offrire di più. Per cui anche per l'azienda la risposta è dipende. Per cui quello che è particolare è che noi riusciamo a fare queste visite contemporaneamente su migliaia di location, perché il sistema è stato costruito in questo modo, per cui fondamentalmente il BMII si appoggia su due strumenti, che sono da un lato tutto quello che serve al committente, all'azienda, per creare e gestire queste rilevazioni e ricevere i dati, poterli leggere. Dall'altro c'è quello che riguarda invece questi ragazzi sul territorio che sono i nostri AI, che invece utilizzano questa app, che li guida passo a passo, una cosa per noi molto importante è la certificazione del dato, per cui ci sono tutta una serie di strumenti di controllo, tra i quali ad esempio il fatto che loro devono dimostrare di essere veramente arrivati sul luogo di lavoro facendo check-in con il GPS. Ci sono questi e tutta un'altra serie di meccanismi, di incentivi e disincentivi, proprio perché la sfida è quella di prendere persone che noi non abbiamo mai visto in faccia e riuscire a far sì che loro svolgano un lavoro che è professionale, nel senso un contenuto che ha un valore economico. Quindi è un nuovo modo di fare ricerca in crowdsourcing, potremmo dire. Ecco, quanto secondo te convincerà il mercato anche rispetto alla ricerca tradizionale, quanto vi aspettate in termini anche di vostro fatturato? Adesso è presto per parlare magari di numeri attuali essendo partita operativamente effettivamente a ottobre, però quali gli obiettivi? Per il 2013 vogliamo fatturare 2 milioni, cosa che ci sembra verosimile perché stiamo parlando con un certo numero di aziende di grandi dimensioni che hanno una serie di esigenze, per cui ci sono aziende che hanno bisogno di fare decine di migliaia di visite in un anno e per cui facendo una stima di quello che abbiamo in questo momento in cantiere, in lavorazione, nel senso ci sembra verosimile pensare a 2 milioni, poi in realtà nel senso non bisognerebbe mai dire gatto. Però il punto è che la cosa interessante di BMII è che non solo permette di fare in maniera più economica, rapida ed efficiente quello che si è sempre fatto. Il fatto che queste singole visite costino così poco permette all'azienda di farne molte di più, quindi è possibile fare cose che non si erano mai fatte prima, mentre prima in alcuni casi si facevano visite a campione, con noi si possono fare visite a tappeto e farle non più una o due volte l'anno, ma farle tutti i mesi. Non solo, una delle cose particolarmente ambiziose che abbiamo in testa è quella per cui oggi per un'azienda che voglia accedere allo strumento della market research la spesa minima da affrontare è altissima, e con questo strumento in realtà sarà possibile anche per piccole e medie aziende che vogliano spendere cifre molto piccole e visitare pochi negozi poter accedere per la prima volta al settore della market research. L'ambizione è fare un po' quello che ha fatto Google con la pubblicità. Prima che ci fosse internet e Google, solo aziende che avevano grandi budget potevano accedere alla pubblicità, con noi nel senso che sarà possibile appunto commissionare ricerche spendendo anche cifre molto più limitate. E direi che non c'era momento migliore per lanciare un'idea di questo tipo, visto il momento economico, visto i budget che diventano sempre più rosicati per tutto. Molte società di ricerca e di mercato stanno avendo dei problemi anche per la recente riforma Fornero, perché non possono più avere queste collaborazioni a progetto, devono per forza assumere le persone. Questo significa che alcuni dei loro rilevatori, che in realtà utilizzavano una volta ogni tanto, dovranno semplicemente smettere di appoggiarsi a loro. Per cui da un lato si sono verificate tutta una serie di circostanze di contorno che sono favorevoli. Per cui da un lato il fatto che per le società di ricerca di mercato tradizionali è diventato ormai troppo costoso o comunque insostenibile avere tanti uomini sul territorio. Dall'altro il fatto che tutti noi giriamo con una telecamera in tasca, per cui ha senso pensare di mettere il dito su una mappa e dire io voglio vedere qui. E se si pensa che questa cosa noi pensiamo di portarla anche in altri paesi. Infatti ecco, perché era un po' la domanda a cui volevo arrivare. Oggi ormai le start-up hanno valore se riescono ad esportare l'idea, perché l'Italia è diventata un mercato forse troppo piccolo per rendere i business sostenibili da sé. Voi come la vedete questo sviluppo? Noi abbiamo fatto adesso una due diligence legale per vedere se c'erano problemi ad entrare in altri cinque paesi che sono Francia, Germania, UK, Spagna e Svizzera. Per cui questi sono i paesi in programma. L'idea ovviamente è quella di andare anche in altri paesi dopo questi. Il punto principale è che nell'ultimo anno sono nate altre iniziative, soprattutto negli Stati Uniti. In Europa c'è solo un'altra società, in Olanda, che fa una cosa simile alla nostra, ma è una modalità di ottenere dati e immagini al territorio che è intrinsecamente efficiente, perché sostanzialmente noi azzeriamo quello che è il costo della trasferta. Un esempio che faccio ogni tanto è quello per cui, se noi dobbiamo fare una rilevazione, una visita a Pinerolo, noi non chiediamo a qualcuno di Torino di prendere la macchina e guidare fino a Pinerolo. Noi abbiamo qualcuno di lì. Per cui il suo costo marginale nel recarsi a fare la rilevazione è molto più basso di quello di Torino. Quindi questo modo di ottenere dati e immagini è efficiente di per sé. Stanno avendo molto successo, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno iniziato un pochino prima di noi, chi ha cominciato a fare queste cose. Il punto fondamentale è che questo genere di attività avrà sicuramente uno sviluppo futuro. Se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro. Quindi noi abbiamo un fondo che ci finanzia, che a paura noi si perda il treno. E quindi c'è grande pressione per riuscire a implementare questa cosa anche in tempi rapidi, anche in altri paesi. Su fronte dei clienti è detto appunto che i progetti possono andare dai mille euro per balanizzarla in su, senza limite ai centomila e oltre e oltre. C'è una cifra vicina al milione di euro, nel senso che c'è tutto un mondo che sono le gare, per cui sono fondamentalmente degli appalti, per cui i grandi realtà che hanno migliaia o decine di migliaia di punti di vendita devono organizzare delle visite, indicano una gara alla quale partecipano normalmente le normali società di ricerca e di mercato e che però utilizzano la loro metodologia standard. E noi abbiamo l'ambizione di poter riuscire a soddisfare i bisogni di questo genere di clienti. E vengo al dunque in questo senso, no? Da questo punto di vista riterrai insomma che BMII si è affermato in Italia quando riuscirai ad avere nel tuo portafoglio quali clienti? Quali sono i clienti insomma che in questo comparto fanno la differenza e dicono ok, cioè esisti e sei da considerare nelle gare comunque come top fornitore in questo senso? Sono quei clienti che hanno moltissimi punti di vendita da visitare, per cui faccio un esempio, Sisal ha 40.000 ricevitorie in giro per l'Italia o anche l'Automatica, forse anche di più, il settore oil and gas, i distributori di benzina, per cui le reti da Eni a Total Air o così via. Coca-Cola ha bisogno di controllare quelli che sono i suoi retailer, i ristoranti che utilizzano i suoi prodotti e hanno anche il loro materiale. Sono tutte aziende, questo è che ho citato, che sistematicamente organizzano queste gare. Ora, il punto è che molto spesso organizzano queste gare, sono organizzate dagli uffici acquisti che non hanno minimamente idea che esiste una modalità alternativa, per cui a volte mettono delle specifiche minime per partecipare a queste gare che si scontrano un po' con il metodo di funzionamento che abbiamo noi. Ad esempio chiedono che queste persone vengano formate in aula, che per noi è impossibile, nel senso che comunque non è possibile farlo con la nostra metodologia. Quello su cui noi cerchiamo di convincerli è che non ce n'è bisogno, perché noi diamo delle prove oggettive. Noi di solito sono richieste di c'è qualche cosa o non c'è qualche cosa. Noi abbiamo delle foto per testimoniare tutto quello che viene affermato, abbiamo il fatto che una persona deve fare check-in col GPS sul luogo prima di iniziare, abbiamo tutta un'altra serie di meccanismi di controllo, tali per cui la formazione in aula non è necessaria. C'è un problema molto sentito da parte dei servizi, questo degli uffici acquisti, che continuano a considerare i fornitori di servizi nella maniera tradizionale, quando invece le cose sono molto diverse e sono cambiate. Sì, nel senso che la sfida è cercare di convincere questi uffici acquisti che anche se noi non rispettiamo alcune specifiche che loro chiedono, in realtà questo non è un meno, ma è anzi un più. Recentemente, non faccio un nome, ma c'è stata una gara in cui chiedevano che i rilevatori avessero un computer portatile per inserire direttamente i dati. Non serve, nel senso che non è un difetto che non abbiano il computer, perché comunque i dati vengono inseriti nell'iPhone e partono subito. Tutta questa nuova metodologia, giusto per riassumere, forse l'abbiamo già detto, ma in termini pratici che tipo di risparmio consente fare una ricerca così rispetto alla tradizionale? In termini percentuali. Almeno di dimezzare i costi, ma almeno. Per cui, vi faccio un esempio, una visita, un audit in un punto di vendita fatto da una tradizionale società di ricerca di mercato, viene fatto pagare dei 50 euro in su, diciamo 50-70 euro. Noi ne abbiamo appena fatta una per un grande marchio di telefonia e li ha pagate 16 euro. Per cui, alla fine, è sicuramente un risparmio molto sensibile. E tra l'altro permette di fare, il costo è tale per cui permette di fare quello che noi chiamiamo sovracampionamento, nel senso che mandiamo a fare due visite da parte di due dei nostri AI in maniera tale da avere ulteriore attendibilità del dato. Grazie.